Ciao a tutti! Oggi è una giornata speciale, specialissima, perché è la vigilia di Natale. Io invece che fare le solite notizie, dare le notizie dei quotidiani oggi, non ne ho voglia, non ne ho voglia perché guardando i quotidiani nessuno in verità si limita a mettere in prima pagina una buona vigilia di Natale. Nonostante l'Italia sia il paese, il punto più importante a livello mondiale per quel che riguarda la fede cristiana e cattolica, io vedo i quotidiani che non danno spazio al Natale. Soprattutto quali? Soprattutto quelli di sinistra, i quotidiani piddini, quelli vicino al partito democratico, evitano di parlare del Natale, evitano di parlare d'amore, parlano solo di cose tristi, parlano solo di odio tra le persone, tra la gente e guerre. Di fatto invece che stimolare l'amore tra le persone, la pace, stimolano di fatto l'odio, la guerra. Quindi riflessione natalizia, aspetto che siate collegati per fare due chiacchiere con voi e soprattutto per dirvi buona vigilia di Natale. Un Natale che amici da troppo tempo ormai è sotto attacco. Un Natale che vorrebbero cancellare e che noi dobbiamo difendere con tutte le nostre forze fondamentali. Quindi attendo voi, attendo che siate collegati. Ciao intanto da Castellaneta, mio amico e fratello Carlo Clemente, buona vigilia anche a te. Mi dice che c'è soleggiato a Castellaneta, 17 gradi con leggero vento di maestrale. C'è caldo anche a moda, è un Natale atipico a livello di clima, è già successo nella storia. Attenzione, non è la prima volta che si passa un Natale quasi in maglietta. Diciamo che abbiamo messo nell'armadio le giacche e usciamo in felpa. Ma c'è caldo, c'è caldo, sì, onestamente c'è caldo. Presumo che duri poco questa situazione, almeno spero che duri poco che venga l'inverno. Vorrei un metro, due metri di neve. Chi si ricorda gli inverni di 10, di 20 anni fa? Chi si ricorda di voi gli inverni di 20, 30 anni fa? Io mi ricordo a Modena, ragazzi, io poi ero su a Zocca, in quel periodo ero spesso a Zocca perché tutta la mia famiglia è di Zocca, il paese di Vasco Rossi. E mi ricordo che uscivamo di casa, o meglio, non uscivamo di casa perché quando aprivamo le porte, amici, c'erano due metri di neve e mi ricordo mia nonna, nonna, non si apre la porta, come devo fare? E diceva, esci dal balcone, vai sopra, esci dal balcone, ti butti giù e poi faremo la rotta con i contadini, si facevano le rotte, ma non le rotte per le macchine, le rotte per poter camminare in mezzo ai due metri di neve. Mi ricordo proprio le scene che avevamo, avevamo tipo i tunnel in mezzo alla neve, era una cosa stupenda. Bene, il clima onestamente è cambiato, negli anni è cambiato e abbiamo perso un po' quella neve, le nevicate, abbiamo perso i ghiacciai, sì è vero, il clima è cambiato, a mio parere è una rotazione naturale, nel senso che il clima cambia in modo naturale, però è cambiato, è inevitabile, è inutile dire una cosa al contrario. Intanto Daniela, auguri, buon Natale anche a te, ciao Anthony, ciao Damiano, no Robby, quello no, di problemi ne abbiamo abbastanza, lo so Cody, lo so Cody. Allora, premesso, qual è la riflessione natalizia? La riflessione natalizia mi dice, tanto Daniela mi dice, ma lei è fissato giusti, si faccia curare, lei sempre inventarsi storie per spallare della sinistra, mi spiace che sia così di parte, no io non sono di parte, io semplicemente sono contro quella sinistra, anzi che non è la sinistra, c'è gente come Marco Rizzo, cioè la vera sinistra, i comunisti italiani sono persone che rispetto immensamente perché sono coerenti nelle loro scelte e rispettano gli altri. Marco Rizzo lo saluto, l'amico Marco, spero che tu Marco mi stia guardando in diretta, ti mando un grosso abbraccio, un grosso bacio e so che tu non hai magari una fede cristiana, quindi non pensi al Natale, però sei una brava persona, quindi io li saluto e li benedico, li benedico assolutamente. No, io non sopporto quei personaggi del partito democratico che fanno di tutto per cancellare il Natale, cioè molti hanno veramente all'interno delle scuole, amici quest'anno dei presidi hanno cancellato la parola Natale, hanno annullato le canzoni di Natale, hanno veramente impedito ai bambini di vivere serenamente il Natale, perché? Per non offendere chi arriva in Italia e ha una cultura diversa dalla nostra. Amici, dobbiamo offendere noi, ditemi voi, è normale offendere noi stessi, calpestare la nostra cultura, le nostre abitudini perché qualcuno viene da noi. Cioè se a me viene uno, se io ospito una persona in casa mia che è di un'altra nazionalità non ha zero il mio modo di vivere, non ha zero la mia morale e quello che mi hanno insegnato i miei nonni, non lo ha zero. Faccio le mie cose, chi viene lo rispetto e lui farà le sue. Cioè non toglie chi entra in casa di un altro rispetto agli usi e costumi della casa in cui entra, perché se non ti va bene, il mondo è talmente bello che se una persona la libertà è quella, se una persona non gli va bene l'uso e costume che trova all'interno di una casa non è obbligato ad entrarci, può starsene fuori, pensate. Pensate che cosa bella è la libertà, che se qualcuno entra in casa tua e non gli va bene una cosa può non entrare, stare fuori e fa prima. Quindi riflessione natalizia è quella, amici, hanno annullato, stanno cercando di annullare la parola papà e mamma, purtroppo. E so che dà fastidio a certi personaggi come quella signora che mi ha appena scritto, dice tu fatti curare robbi giusti, mi devo far curare perché? Perché ritengo inopportuno avere una parte politica che vuole annullare la parola mamma e papà, perché gli dà fastidio la parola mamma e papà, gli dà fastidio la parola Gesù, gli dà fastidio la parola Natale. Amici, se vi danno fastidio queste cose, a questi politici ce lo dico, ci sono paesi bellissimi in Arabia, paesi bellissimi che vi ospiterebbero in un secondo, intanto con i soldi che avete preso, che avete in tasca, con gli stipendi parlamentari, potete tranquillamente andare dove volete. Tanto Maria dice, è giusto, non si può cancellare la nostra cultura, stanno facendo un lavaggio del cervello ai giovani, purtroppo è la verità. Quindi questa riflessione natalizia non deve essere, attenzione, il Natale non deve essere solo ed esclusivamente una scusa per farsi regalini, no, deve essere un momento importante per stare intanto in famiglia, quindi rafforzare la famiglia. Perché amici, sapete perché va male il mondo? Sapete perché va male il mondo? Perché abbiamo perso la famiglia, sono finite le famiglie, purtroppo, con la scomparsa di tanti nonni e tante nonne, che erano quelle che univano i nuclei familiari. Io mi ricordo, io stesso sto ricreando in casa mia quello che facevo quando c'era mia nonna, me la ricordo, la nonna Giuseppina, vi racconto di mia nonna Giuseppina. La nonna Giuseppina era un mito, perché noi nipoti e figli nipoti non vedevamo l'ora di andare a Ciano di Zocca, nel mio paese d'origine, saluto gli amici di Ciano, andavamo a Ciano di Zocca, non vedevo l'ora di andare a Ciano di Zocca con mio cugino Michele, con tutti i miei pareti, era bellissimo, con la zia Elia, c'era la mia mamma, eravamo tanti, tutti insieme, le mie cugine inglesi che saluto, Paola, Rebecca, la zia Ilari, lo zio Paolo, lo zio Graziano, eravamo tutti insieme a Natale, tutti insieme a Natale, eravamo in venti, tutti, tutti, stretti, stretti, in una casa umile, perché non eravamo ricchi, una casa umile, era bellissimo, era bellissimo però, perché c'era tanto, tanto amore. I regalini, mi viene da piangere quasi, è quello che manca ragazzi, è quello che manca ragazze, quante di voi hanno perso tutto questo? Quante di voi? Quante di voi hanno perso tutto questo amici? Ed è quello che vogliono distruggere, ma vi spiego perché, perché se la famiglia è unita, se una famiglia è unita, una famiglia unite si trova, non possono, non possono toccarla, perché la famiglia si unisce, fa gruppo, diventa una forza che è invalicabile, indistruttibile, quindi loro vogliono distruggere le famiglie per poterci controllare in modo adeguato, perché siamo dei cani sciolti, un cane sciolto lo controlli, se ti arriva un branco di cani arrabbiato, non ce la fai a controllarlo, tu ti giri e te ne vai via. Purtroppo in tanti l'hanno persa. Bene, io no, io fortunatamente, io ho dieci persone stasera, ne ho tredici, quattordici, siamo domani a pranzo e l'ho che era tutti insieme, tutti insieme in famiglia ed è bellissimo, non andiamo neanche fuori a spendere, tutti in caso, tutti in caso, ognuno porta qualcosa e facciamo una cosa bellissima. Quindi il loro, ecco, Maurizio Immobili, il loro grosso problema di chi? Di quei piddini che hanno, di quei piddini che hanno passato questi giorni a dire guardate come si sono sposati, che bella coppietta che si sono sposati, lui sett'ottantenne e lui quarantenne si sono sposati, che carini che sono, cecchi paone, complimenti. Bene, questi sono i piddini, questi sono i piddini, che la cosa importante è quella, la cosa importante è un matrimonio tra due uomini con 40 anni di differenza. Invece pensate, la cosa importante è star vicino ai miei bimbi con i nonni, con gli zii, tutti insieme, brindare insieme a Natale, bere un buon vino italiano, un bel prosecchino italiano insieme, tagliare un bel panettone. Non possibilmente quello di Chiara Ferragni dove si mette milioni di euro in tasca, piddina, piddina, lo ribadiamo. Bene, questo, puoi andare in chiesa, messa di mezzanotte, si prega insieme, si fa capire ai bambini cos'è l'importanza del Natale. Questa è la riflessione, amici, non cadiamo nel loro gioco, diamo forza alla famiglia, alle famiglie. Poi so che questo discorso potrebbe sembrare fascista, parlano di fascismo, perché uno dice vogliamoci bene, stiamo in famiglia, rispettiamo le nostre mogli, i nostri figli, i nostri figli, figli rispettati ai genitori, tutti rispettiamo i nonni, tutti rispettiamo uno e l'altro. Bene, può sembrare un discorso, pensate, per loro un discorso fascista questo. Per loro non è fascista invece la signora che esce di casa e viene stuprata da gente che è arrivata in Italia con usi e costumi troppo lontani dai noi. Quello non è fascismo, quello è normale, quello è falso buonismo alla piddina. bene, come dice Calogero, la famiglia è una cosa sacra e Natale deve essere sfruttato per quello che vuole Gesù, per sì pregare per Gesù e dire grazie per essere tornato e ricordarlo, ma la cosa importante è per stare in famiglia, per stare in famiglia, perché tutte le regole, tutte le cose devono partire dalla famiglia. Non dall'educazione gender a scuola, che è quello che vogliono fare. L'educazione siamo noi genitori che dobbiamo darla e l'unico modo per dare ed educare i figli è passare più tempo possibile insieme a loro. Quindi questa è la mia riflessione natalizia, so che ci sarà chi gli darà fastidio, no? Chi gli darà fastidio. Però è la verità, è quello che penso io, io dico sempre quello che penso, a prescindere, poi se uno mi offende guardate addirittura in diretta leggo i commenti di chi mi offende, ma perché è giusto così, perché è giusto rispettare il parere di tutti. Chiaro che se uno mi offende io lo leggo in diretta e dico nome e cognome e poco mi interessa. Vi voglio bene, vi voglio bene, vi auguro una buona vigilia di Natale e sicuramente ci sentiremo nel pomeriggio. Mi raccomando, questa è la mia usanza, noi oggi non mangiamo carne, cioè l'usanza si mangia il pesce, no carne. Viva Gesù Cristo, viva Gesù Cristo per chi crede, viva Gesù Cristo per chi non chi crede. E poi attenzione, io non parlo a chi crede, e basta. Io parlo a chi non crede, perché se riesco a salvarne anche solo uno che oggi non crede e domani inizia a credere, per me è una grande vittoria, perché ti arrivano i premi, ti arrivano le medaglie da Gesù, ti arrivano le medaglie. Quindi poi diranno fai il bigotto, vuoi fare il prete, mi dicono anche questo. No, no, credo in una cosa e lo dico. Amici, oppure dobbiamo chi parla di ONG o di Greta Thunberg o di queste cose, può farlo, ma se io parlo di Gesù, della mia fede, non posso farlo. Chi parla di LGBT, tipo di DLZ, può farlo e io non posso parlare della mia fede, della mia religione. Oppure se uno parla di Allah, può farlo, se io parlo di Gesù, no, non posso farlo, perché ho i pidini, o quei pidini che gli dà fastidio. Ognuno è giusto che parli di quello che vuole. Uno è libero di ascoltare o di non ascoltare. Detto questo, il pesce è carne di mare, come dice Enrico Emilio. Vai, questo è bello, il pesce è carne di mare. Amici, vi voglio bene, vi auguro veramente una buona vigilia. Mi raccomando, state in famiglia il più possibile. Chi ha la fortuna di avere una famiglia e di stare in famiglia? Purtroppo non tutti hanno questa fortuna. Se avete amici che non hanno una famiglia, invitateli a casa con voi, portateli in casa vostra. Vi ricordate la canzone Aggiungi un post a tavola che c'è un amico in più? Ecco, è molto bella quella canzone. È fondamentale. Vi voglio bene, vi voglio bene. Ciao a tutti. La Meloni, come al solito, tace. Mi sarei aspettato il Presidente di Consiglio oggi su tutti gli schermi, tutte le tv, con un augurio. E non so se l'abbia fatto o meno. Se l'avesse fatto mai, mandatemelo. L'avrei voluto vedere, l'avrei voluta vedere, la Presidente Giorgia Meloni, in tv, dicendo vi auguro una buona vigilia a tutti e un buon Natale italiani. Siamo cattolici, siamo cristiani, è giusto farlo. Non so se lo farà, non so se lo farà. Vabbè, giocare a tombola? Eh, c'è la tombola, stasera c'è la tombola, si fa anche la tombola a casa. Il prete non parlano neanche più in chiesa, i preti. Purtroppo Antonella è vero. Ne discutevo, discutevo, chiudo solo con questo, discutevo con il prete della chiesa di fianco a casa mia, che è una persona splendida. Don Giacomo, che saluto. Don Giacomo, buon Natale. E gli ho detto, Don, il problema è che la messa cattolica, io porto i miei figli in chiesa cattolica, premetto, però io vado in chiesa evangelica cristiana. Gli ho detto, Don, il problema della chiesa cattolica è che è diventato una noia mostruosa. Cioè, voi fate sempre la stessa, ripetete sempre la stessa filastrocca, sempre uguale, e la gente si annoia. C'è chi dorme, c'è chi fa finta di essere sveglio, ma dorme. Perché la gente non capisce quello che viene detto, o meglio, lo fa in automatico ormai, ripete in automatico, ma nessuno pensa alle parole importanti che ci sono durante la funzione religiosa, la messa. Invece noi in chiesa evangelica cambia tutti i giorni, cambia, si canta molto, cambia molto le cose, il pastore parla di vari, è molto particolare. Entrambe sono per Gesù. Premetto, le chiese cristiane sono tutte, da cattolica sono tutte per Gesù. Però detto questo, ho detto, è un po' una noia. Don, è un po' una noia? Lo so. L'ho ammesso, l'ho ammesso. È un po', sì, perché diventa sempre uguale, però è una grande fortuna perché, pensa a quei preti che non hanno il carisma necessario per farti un'emelia fatta bene, c'è uno schema predefinito con quello non ti sbagli. Quindi mi ha spiegato bene la cosa. Quindi io saluto anche Don Giacomo, amici. Gloria a Dio, gloria a Dio. È la festa di Gesù che vogliono distruggere, ma noi non glielo permetteremo. Amici, non abbiate paure amiche di difendere Gesù, perché un indomani tutti quei furbetti che oggi fanno i satanisti, tutti quei furbetti che oggi fanno gli atti, quelli che, un indomani, volente o nolente, davanti al Creatore ci andranno. Chiamatelo come volete. Io lo chiamo Gesù, ma chiamatelo come vi pare. Un indomani, quando si spegnerà il corpo, qualcosa lo vedrete. E quando arriverete davanti a Gesù e Gesù dirà, tu Robby non hai mai difeso e non hai avuto il coraggio di parlare di me e di difendermi. Non so se avrò voglia, Robby, di parlare con mio padre e difenderti davanti al giudizio di mio padre. Ecco, io non voglio arrivare a questo. Io vorrei arrivare lì davanti a Gesù e a Dio. Gesù dice, guarda, Robby, ha fatto mille cavolate, ha fatto mille peccati. Però alla fine mi ha sempre difeso. Sì, Robby giusti, è un coglione, Robby giusti veramente. Coglionazzo proprio. Però mi ha difeso e alla fine un bravo ragazzo. Ecco, io voglio arrivare a quello. Quindi un bacio a tutti, soprattutto a chi non crede e a chi mi offende. Li benedico in questa giornata, in questa vigilia di Natale. Ciao a tutti. Ciao